e chi è che si è? Ottavo in classifica in stagione? no no com'è? stai contento perché da tre punti mi hanno chiesto spesso in settimana facendo battute una doppietta, una tripletta e ho detto va bene uno da tre punti e è arrivato bene così come ti è apparsa la retroguardia anzi la fase difensiva del Benevento non togliendo i meriti però in occasione dell'azione che ti ha condotto al gol sono andato alle spalle dei signorini se non sbaglio c'era Danna la stanza è diversa ma era ben disposta oppure hai capito qualcosa che non andava io sono andato sul loro fisicamente più debole sul terzino destro e il cross è arrivato lì loro erano messi bene però poi mi sono giurato il corpo a corpo con il Danna e l'ho vinto però erano messi bene che valore ha questa valutoria? eh pensavo meglio in classifica però no ci rilancia ci dà fiducia perché al di là di tutto abbiamo fatto una prova maschia e il primo tempo buono il secondo tempo siamo stati un po' più timorosi forse ma ci sta ad aspettarsi anche una relazione del Benevento che c'è stata però a livello di conclusioni forse potevamo raddoppiarla noi con il mio tiro colpo di testa e loro ci hanno avuto forse occasione di Cipriani ma se l'è creata da solo perché ha fatto una carangio per il resto eh il campo non era bello non so se da fuori si percepiva diversamente ma non era bello per cui sia noi che loro facciamo fatica a sbagliare tanti errori di passaggio e il Benevento c'era i Cipriani che buttavano palle e giocavano sulle seconde palle però ecco siamo stati molto bravi i Russo e i Lebrani hanno fatto una grandissima partita come tutta la squadra di resta altre domande? no ok breve